quando nasce la musica non c'è una data esatta per dire quando sia nata la musica la musica probabilmente è nata con l'uomo l'uomo improvvisamente sente dentro di sé la necessità di comunicare attraverso dei suoni delle sensazioni delle emozioni queste sensazioni possono essere possono avere un significato rituale la musica accompagna funerali feste momenti collettivi non sappiamo quando la musica sia nata possiamo prendere per buono il fatto che probabilmente la musica è nata con l'uomo ciao al prossimo video vi aspetto